Allora, buongiorno ragazzi, oggi vedremo la condizione di parallelismo e la condizione di perpendicolarità cioè quando due rette nel piano cortesiano sono parallele e due rette nel piano cortesiano sono perpendicolari Allora, andiamo a inserire Voi vi ricordate che l'equazione generica di una retta non parallela né all'asse x né all'asse y è del tipo y uguale mx più q Allora, dove m rappresenta il coefficiente angolare cioè la pendenza cioè l'angolo che la retta forma con l'asse delle x questo è l'asse delle x, quello verticale è l'asse delle y e poi q invece rappresenta il punto in cui la retta intercetta l'asse delle ordinate Allora, andiamo a scrivere subito una retta specifica Andiamo subito a vedere Allora, scriveremo y y uguale a 2x più 3 Allora, questa è la nostra retta 2x più 3 In questo caso il coefficiente angolare è m uguale a 2 il termine noto è più 3 Infatti, come vedete, la nostra retta intercetta l'asse delle ordinate nel punto di coordinate 0 più 3 Adesso vediamo di scrivere una retta che sia parallela a questa retta data Perché sia parallela abbiamo visto in classe che devono avere lo stesso coefficiente angolare Quindi io confermo il 2x 2x Posso cambiare e mettere meno 5 Allora, vedete? In questo caso le due rette questa retta qui e quest'altra risultano essere parallele Questa la possiamo eventualmente eliminare Ok, vedete come sono sono perfettamente parallele In questo caso vedete il coefficiente angolare m1 è uguale al coefficiente angolare m2 Il termine noto può variare In questo caso vedete q è più 3 e passa dal punto 0 più 3 e questo è meno 5 e passa dal punto 0 meno 5 Ok Adesso possiamo fare in questo modo Allora, adesso andiamo a vedere invece due rette che sono tra loro perpendicolari Chiudiamo Non save Riapriamo Anche qui restringiamo Mettiamo le nostre rette y Abbiamo visto in classe che le due rette sono perpendicolari quando il loro coefficiente angolare è inverso e reciproco anzi, opposto e reciproco Che cosa significa? Lo vediamo subito Se io metto qui y uguale a 3x più 4 Nel solito in questo caso il coefficiente angolare m è 3 e il termine noto è più 4 infatti passa dal punto più 4 Andiamo a inserire una retta che sia perpendicolare a questa y uguale a meno quindi deve essere opposto quello era più 3 questo è meno un fratto 3 un terzo di x e posso mettere qualunque cosa più c più 2 Vedete? Abbiamo visto in questo caso le due rette sono perfettamente perpendicolari ok? Facciamo un altro esempio y uguale y uguale meno meno 3 quarti x più 5 questa retta qui colore facciamolo rosso stavolta ok per non confondere con le rette parallele e adesso andiamo a scrivere una retta che sia perpendicolare a questa retta rossa che abbiamo disegnato e quindi scriveremo y uguale dobbiamo fare l'opposto e il reciproco e quindi diventerà più più spazio 4 terzi x meno 2 eccola qua cambiamo colore così lo evidenziamo setting colore rosso eccola qua e le abbiamo disegnate queste rette sono perfettamente perpendicolari vedete quindi basta fare l'opposto quindi cambiare disegno da qui da più 3 a meno e fare il reciproco 3 un terzo qui da meno a più 3 quarti 4 terzi questi possono assumere valori come abbiamo visto in questo caso la prima retta passa dal punto di coordinate 0 più 5 0 più 5 e quest'altro il termine qui l'altro termine noto è 0 meno 2 0 meno 2 quindi due rette sono parallele quando hanno lo stesso coefficiente angolare sono perpendicolari quando hanno i coefficienti angolari opposti e reciproci molto semplice ok e